Nei giorni scorsi Simon Torup Chiaer, l'esperto difensore danese, è stato offerto al Napoli, che in questo momento è alla ricerca di rinforzi difensivi. Con una carriera solida e una vasta esperienza nei club europei, Chiaer si è messo in luce in diversi campionati, ma la sua situazione attuale, senza club, potrebbe essere un'opportunità interessante per i partenopei. L'età del giocatore, che ha compiuto 35 anni, è però un fattore al vaglio della dirigenza del Napoli, la preoccupazione per il rendimento a lungo termine e la necessità di un difensore che possa garantire una difesa solida sono temi che pesano sulla decisione del club. Sebbene Chiaer abbia un track record impressionante, anche la fase di transizione verso una nuova squadra e il ritmo del calcio italiano sollevano interrogativi. Inoltre il Napoli ha già dei giovani talenti in difesa, il che rende la decisione ancora più complessa. La combinazione tra l'esperienza di Chiaer e l'energia dei giocatori più giovani potrebbe essere una soluzione praticabile, ma il club deve valutare se quell'esperienza si tradurrà in prestazioni in campo. Il futuro di Chiaer rimane incerto mentre il Napoli valuta le proprie opzioni. La situazione del difensore attentamente monitorata e le prossime settimane potrebbero rivelare se diventerà un'aggiunta alla rosa o se il club cercherà alternative più giovani per rafforzare la propria difesa.